ciao a tutti luna rossa family amiche ed amici benvenuti e bentrovati per un nuovo video oggi io avrei una mezza idea però non so se diciamo che le carte ci risponderanno in questo senso perché voglio anche lasciare un po libero il percorso in maniera tale che qualcuno ecco tra voi o tanti tra voi in questo senso fatemi anche sapere come vi risuona possono avere una lettura diciamo che è personale in ogni caso voi prendete solamente ciò che vi risuona rilasciate tutto il resto le mani ammaccatice perché è successo di tutto di più prima cosa vediamo un po cosa arriva con questa fidati è la volta buona o una margherita tipo mamma non mamma volta buona se davvero ci tieni sai già cosa fare ok quindi vai sul sicuro qui diciamo ecco è come se le carte di le carte scusami queste questo brevissimo oracolo con due tre dritte ti dice guarda è la volta buona vai sul sicuro guarda che non ti sbagli direi che le parole sono assolutissimamente molto 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 incoraggianti cerchiamo di capire di cosa stiamo parlando prima di tutto anzi prima di tutto cerchiamo di capire invece i tempi stavolta partiamo dai tempi dai ok i tempi di realizzazione ovviamente lo sapete già il condizionale arrivano due carte non accadrà nulla ok rilassati libera i tuoi pensieri ok questa non è una situazione nella quale capi succede un qualcosa è una situazione nella quale tu fai succedere qualcosa rilassati libera i tuoi pensieri anche rispetto a quello che vorresti tu ora due secondi e poi anche fermare o mettere in pausa il video cerca di mettere a fuoco una cosa che tu pensi o che hai il dubbio se farla o se non farla rispettando una situazione che ti sta a cuore può essere una situazione sentimentale può essere qualcosa che riguarda il lavoro di quello che vuoi tu ok io non so cosa che tipo di risposta arriverà ma in ogni caso il punto rispetto a questa lettura è che le carte ti vogliono dire guarda su questa cosa sulla quale tu hai dei dubbi probabilmente o sei stata ferma con le quattro frecce e fino ad oggi non hai agito stai tranquilla l'azione per far accadere le cose come dire ecco dipende da te pensaci e oggi vediamo di pensarci in questo senso insieme ok prendo le carte per prima cosa sta registrando sì ok allora vediamo intanto di cosa si tratta per grandi linee qui abbiamo 10 di copp quindi stiamo parlando di amore ma anche di un amore profondo diciamo ecco ora non non è che posso dire è l'amore della tua vita e neanche posso dire come dire è un amore di breve durata il punto è uno non è la quantità di tempo è come dire ecco l'averlo percepito come un grande amore con dei sentimenti come dire ecco veramente molto forti molto coinvolgenti ok ecco sì assai probabile che per la maggior parte di voi era una situazione nella quale era come dire un'opportunità di amore no magari poteva come dire ecco arrivare dopo un periodo di lungo per esempio di solitudine o dopo un periodo dove ci sono stati problemi non tra di voi nella vostra vita tuo suo e in qualche modo ecco quando vi siete trovati l'avete considerata come dire ecco veramente l'occasione della vita ecco questo investimento grande questo sentirsi così presi no qui abbiamo un 5 di spade salvo poi salvo poi esserci rimasti male come dire ecco essersi essersi voltati le spalle a sé probabilmente probabilmente avete anche un po capito o a mancare di tu hai capito che non era il momento giusto non tanto che non era la persona giusta che il momento non era quello giusto che vi siete incontrati come dire ecco nel momento sbagliato ok diciamo che qui abbiamo una strega solitaria no che legge che studia che si documenta anche che si fa delle domande no con il pendolo vedete diciamo che molte cose è assai più probabile che non le trovi dentro i libri ma le trovi dentro di te alcune risposte qui sarebbe anche da capire come mai sicuramente tu lo saprai forse non è neanche il caso che in questo senso vada ad indagare no il come mai le carte ti spronano no a fare qualcosa e ad avere fiducia su quel fare qui c'è lo ierofante che generalmente parla di un in questo mazzo di carte parla più che altro di tradizioni di rispettare in qualche modo ecco le tradizioni no però è anche una carta che dice le tradizioni non sono per tutti uguali ti faccio un esempio ci possono essere persone che magari nella vita sono un po più abituate senza per questo volerne fare un discrimine come un senso di colpa ad essere più corteggiate che a corteggiare per esempio no persone che sono più abituate come dire ecco a chi ti cerca chi stiamo parlando non di te a dire la verità questo io so per buono cioè scusami do per buono che tu sai come ti piace essere corteggiata o se sei tu che vai a corteggiare un fatto è certo la persona che stai pensando non è proprio come dire ecco il re dei corteggiatori il fatto è questo qua infatti è come la persona che indecisa indecisa anche rispetto alle cose che può avere per interesse questa persona nei due confronti però le fa o non le fa in base al grado di apprezzamento che questa persona sente dalla parte tua quindi stiamo parlando di qualcosa di questo tipo di una persona che non è molto bravo nel corteggiamento che probabilmente hai coinvolto tu si è sentita coinvolta questa persona allo stesso tempo riconvolta pure tu solo che poi diciamo ecco avete capito che forse lì per lì avete capito che non eravate fatti l'uno per l'altro magari pensandoci su avete capito questo pensarci su no che forse nel momento non era quello giusto e che magari avete delle differenze che per il momento sembrano delle differenze inconciliabili in ogni caso quello che emerge è che sembra che tra voi ci sia qualcosa come un desiderio che ancora in espresso perché non ve lo siete detto però c'è come dire l'indecisione rispetto magari a ricercarsi ricominciare di darsi la possibilità e di questa carta arriva tra quella che erano proprio nastri di partenza le prime le carte di coppia e l'asso di denari no però contemporaneamente dice vabbè ma che faccio che faccio e quindi che faccio ok quindi assai probabile che rispetto a io se penso uno più uno fa due cioè che le carte ti vogliono un attimino incoraggiare rispetto a prendere l'iniziativa per cioè se tu hai iniziato col ruolo di chi corteggia ecco questa persona se non sarai tu di nuovo a corteggiarla difficile che viene nella tua direzione è come se pensasse dice non gli interessò più ecco perché non mi corteggia ecco perché lei non torna da me andiamo a vedere cosa porti nel rapporto sei di pentacoli diciamo che tu sembri un po il genio della lampada a dire la verità cioè sei pronta ad esaudire ogni desiderio hai un sacco di risorse in questo tempo anche c'è sempre una persona che non si risparmia o che non si è risparmiata dove ti trovi re di bastoni diciamo che sei a casa tua a farti fatti tuoi no dice chi c'è che mi segue nessuno buonanotte buonasera vediamo cosa vorresti ok abbiamo il mondo questa è una carta che dice che tu vorresti che le situazioni fossero totalmente diverse da come sono in questo momento sarebbe a dire se siete litigati vorresti che fosse in pace se non vi parlate ci vorresti parlare se questa persona tu l'hai corteggiata adesso vorresti essere corteggiata tu per intenderci no va bene vediamo adesso invece quello che spera questa persona per esempio no ok qui abbiamo il 10 di spade beh diciamo che se hai pensato ad una persona specifica o rispetto ad una persona specifica la situazione che vi coinvolge questa persona vorrebbe metterci la parola punto la parola fine ok ma una parola fine perché è come se ci fosse una gesta all'aperta no quindi la possibilità di un recupero a dire il vero non è sicura questa persona di questa possibilità di recupero per cui sai come quando una persona si licenzia e libera la scrivania e mette tutte cose in una scatola cioè vorrebbe come dire ecco che tu sgombrassi la sua mente in modo particolare no perché così sicuramente non vuole andare avanti quindi questa persona certamente ti pensa e ti pensa anche con potremmo dire l'elemento fuoco no fuoco più aria andiamo a vedere lo ierofante in questa posizione questa persona vorrebbe fare pace con te vorrebbe mettersi d'accordo con te vorrebbe che vi capiste in qualche modo vorrebbe anche confrontarsi con te rispetto a ciò che hai imparato di te di voi due e eventualmente se hai imparato qualcosa pure tu per dire no cosa porta nel rapporto abbiamo la forza la forza in questo caso può essere anche la passione quindi la passione ma anche tenera una tenera passione o una passione tenera poi in fondo no quindi non di quelli che ti sbattono nel muro quindi è una persona come dire ecco che in un certo senso è anche rispettosa no no irrispettosa rispettosa vediamo come tu vedi lui e come lui vedete ok vediamo come lui vedete ok giorni di gloria come si suol dire e come vi vedete allora intanto direi che forse siete un pochetto arrabbiati qua abbiamo infatti il diavolo no siete un po' intossicati vi siete un po' intossicati chissà che avete detto o che avete fatto allora da parte di lui quindi questa porzione qui questa sarebbe la tua allora tu vorresti che ci fossero delle novità dire la verità ok diciamo ecco o perlomeno più che tu vorresti che ci fossero delle novità è come se tu pensi che deve essere lui in qualche modo ecco a venirti a cercare se vuole e gli interessa il rapporto quindi non è che cioè tu sei lì che una che aspetta in qualche modo stai affacciata a vedere se questa arriva no lui o lei dall'altra parte con questo arcano maggiore della giustizia arrivano due arcani maggiori non so se ci state facendo caso no fai conto che come se ritiene che non sono successe delle cose giuste tra voi due qualcosa è andato veramente storto tra voi due lui si è fatto insomma ecco l'idea che ci sono stati dei comportamenti non validi parliamoci chiaro non ti parlo né di civile né di penale dato che c'è di mezzo la giustizia ma a volte per gente stupida anche una banalità diventa un qualcosa di perseguibile per legge no allora vediamo invece come ti vedeva in passato tu come vedevi in passato e lui a te allora ok lui a te ti vedeva indecisa un po' riservata un po' misteriosa che non chiarivi come dire con determinate cose te le tenevi per te però allo stesso tempo anche se ti vedeva così diciamo che si fidava di te nel senso che riteneva che sei una persona che o stai da sola o stavi con lui o con lei cioè non è che hai dimostrato come dire ecco in questo senso di andare a fare bella vita con chissà chi eh quindi ti vedeva comunque una persona come dire ecco anche se vogliamo un po' mistica se si può dire in questo modo no probabile che qualcuno di voi avrà fatto anche qualche chiamiamolo rituale di luna no avete presente quando c'è la luna piena e uno sta lì a diciamo anche a come posso dire a esprimere propri desideri no come lo vedevi tu nel passato allora lo vedevi come una persona sicuramente che voleva andare avanti nel rapporto e anzi voleva essere era molto volitivo nel nel diciamo nel andare per andavo ad una velocità sicuramente più adeguata rispetto alla tua rispetto a quelli che erano i suoi obiettivi magari no ciò che voleva conquistare infatti è questo che tu andavi probabilmente come una lumaca quindi volevi andare tu un po' più piano e magari lui ti sembrava veloce in realtà eri tu che eri un po' lenta diciamo che lui era un'andatura normale però tu in quel momento c'è stato un errore di velocità di valutazione rispetto al reciproco che velocità allora vediamo un po' quali sono i tuoi dubbi le tue paure i suoi dubbi e le tue paure dubbi e paure da parte tua allora la paura che questa storia non vada a finire da nessuna parte non vada a parare ti faccia perdere tempo come dire ecco che sia una storia come dire cosa senza futuro non abbia una direzione ben precisa non abbia uno scopo ben preciso ma non per te per l'altro questa è proprio la paura mentre diciamo tutto sommato i dubbi che hai sono legati più che altro a cioè le cose ovviamente vanno a braccetto perché qui abbiamo come dire con una storia di persone che magari hanno questa scintilla può essere un colpo di fulmine può essere una benevolenza quello che è però non arriva ad essere regina di coppe che già o anche per dire un cavaliere di coppe è il paggio quindi c'è il dubbio che possa maturare questo rapporto e arrivare magari a quello che vorresti tu lo tienici questo rimane sempre un rapporto come una storia ci vediamo al fine settimana esempio oppure ci vediamo solamente quando non abbiamo altro da fare con qualcun altro chissà magari per qualcuno vale questo quindi questo è il punto che tu hai paura a investire in questo rapporto perché dice caspita questo magari è un rapporto dove io non vado e non sto facendo quello che veramente vorrei dentro una relazione estanda in una relazione di coppia è come se questa situazione a te non offre nemmeno le garanzie di poter essere considerata una vera e propria relazione di coppia vediamo i suoi dubbi e le sue paure 10 di pentacoli ok ok sono carte alte queste qui allora la paura come dire ecco di prima di tutto non piacerti che lui non possa piacere a te la paura che tu possa in qualche modo ecco avere la possibilità e non è che devi stare con lui per ripiego dice ok sto con lui finché non ho altre possibilità cioè è come se questa persona sapesse già che tu puoi aspirare a qualcosa di meglio o altre persone ti possono certamente rendere più felice fatto sta che questa persona è come se avesse un po' anche paura come dire ecco di non essere abbastanza piacente di anche passami il termine di non soddisfarti dal punto di vista della sessualità diciamo ecco di non averti di non darti piacere di non darti godimento di non darti in questo senso qualcosa che per te è veramente gratificante appagante i dubbi sono legati al fatto appunto anche lui tutto sommato pensa che diciamo nel suo caso sono dubbi nel tuo caso sono proprio paure diciamo ecco se tu percepisci come di destino che mancano i presupposti come dire ecco per anche fare dei progetti con questa persona in questo rapporto da parte di lui c'è il dubbio è un po' meno rispetto alla paura no anche perché a te viene un arcano maggiore quindi magari questa situazione è un po' più semplice da modificare è come se diciamo lui ha il dubbio che come dire ecco possiate effettivamente costruire ma stiamo parlando non sul piano sentimentale sul piano materiale quindi che so stare sotto lo stesso tetto avere una vita anche rispetto alle persone che dal punto di vista sociale frequentate tu le tue lui le sue quindi che tutto questo possa costituire un buon match in questo senso un match che vi scontrate cioè che veramente riuscite a stare bene insieme tra voi due insieme anche alle persone che evidentemente sono diverse quelle che frequentate è come se in qualche modo ecco volendola dire tutta è come se tu fossi il gatto nero per la per la sua vita e diciamo o la mosca bianca vedi come vuoi dire tu la pecora nera cioè nel senso la persona diversa in questo senso no la bambina dai capelli rossi rispetto alle persone che frequenta lui ma anche lui è come dire ecco la pecora nera il diverso rispetto alla gente che frequenti tu quindi come matchate davanti al vostro tessuto sociale è anche un qualcosa per la quale lui ha dei dubbi cioè come ti faccio un esempio no che uno dei due è molto artista e l'altro invece è troppo matematico diventa un po' complicato come dire ecco se tu frequenti uno frequenta tutti artisti e l'altro frequenta tutte persone razionali matematiche no ok vediamo rispetto ai dubbi quali sono le influenze anche se qui sono anche abbastanza evidenti ok da parte tua perché vedi questa persona che magari o hai visto questa persona parla parla e poi o non fa sembra indecisa sembra che procrastini sembra che non non dia poi come dire prosecuzione a ciò che magari ti fa pensare o ti induce a pensare o ti ha indotto a pensare vediamo un po' i dubbi suoi quindi tu dici vabbè questo mi sta prendendo in giro può darsi che tu abbia pensato qualcosa di questo tipo ok questa carta parla dell'arcano maggiore della morte in questo mazzo di carte c'è un trasloco praticamente no voi la sapete voi lo sapete l'arcano maggiore della morte corrisponde alla metamorfosi al cambiamento qua possiamo dire che è proprio il fare pulizia rispetto anche a un trasloco un cambiare casa cambiare abitudini cambiare modus città cioè i dubbi sono legati a qualcuno che deve cambiare la capacità di adattamento più che di cambiamento quindi i dubbi di lui della persona che pensi sono legati al fatto che dice perché non ha fatto le cose perché aveva il dubbio già il tarlo che c'è una sfiducia come se non potevate mecciare bene come se non sareste andati poi chissà quanto lontano no io non riuscirò a cambiare forse è meglio che cambia lei ma lei non vuole cambiare e neanche io voglio cambiare io tutto sommato così sto bene ok visti questi aspetti possiamo provare a vedere fondamentalmente qual è il messaggio che ti voglio dare come dire con le carte rispetto a quel vai abbiamo il 6 di spade più vai di così c'è qualcuno che è al molo e aspetta il batumouche come si suol dire non un battello o il vaporetto per chi sta bene se per dire qualcosa che ti porta all'altra riva tu porti tanti bagagli come dire hai tanti pensieri hai tanto hai tanto anche come iperlogicità c'è tanto mentale però probabilmente il messaggio che ti vogliono dare le carte ovviamente se riesci in questo senso a metterti d'accordo con questa persona lì dove tu volessi riaprire i contatti le comunicazioni no sarebbe interessante farlo nella misura in cui per te questo diventa un non una preoccupazione perché già tu ce le hai ma un diversivo un qualcosa che ti fa rilassare proprio come quando uno prende il batomouche ok quindi non è che tu vai a fare un trasloco vero e proprio no c'è ogni tanto anche la disponibilità come dire ecco anche di eventualmente farlo però per ora viverlo come una specie di vacanza no ecco fino a che piano piano non si prendono delle abitudini prima si passa il weekend assieme si dorme la sera assieme fino a che poi diventa passiamo 3-4 giorni assieme fin quando uno si abitua a stare con l'altra persona anziché fare un cambiamento repentino dice dal momento in cui se siamo dati un bacio in bocca adesso abbiamo fatto un patto di sangue dobbiamo stare dalla mattina alla sera assieme invece no piano piano abituarsi rispettare la vita dell'altro lui la tua vita e tu la sua vita quindi permettervi di entrare nella vita dell'altro diciamo ecco in punta di piedi ok questo è quello che potrebbe accadere per far funzionare le cose per il momento dare per buono che comunque dovete stabilire dei confini cioè quindi non tutto è accessibile della tua vita e neanche tu devi pretendere che tutta la sua vita sia totalmente accessibile cioè dando per buono che alcune aree della tua vita sono inagibili e alcune della sua vita sono inagibili per esempio ti faccio un'ipotesi se il tuo lavoro ovviamente lavori in fabbrica è normale che la tua vita lavorativa è inagibile giusto metti invece che avevi un negozio magari tu puoi venire a salutare il negozio per dire no la stessa cosa dicasi per esempio per quelli che sono i rapporti con gli amici o familiari no ovviamente fino a dove l'altro ti permette fino a dove l'altro ti permette ma anche lì dove l'altro per dire vuole che stai una settimana con la sua mamma per dire ecco a fare la calza o a vedere se a sua mamma piaci potrebbe anche succedere qualcosa di questo tipo ecco fai conto che tu puoi anche dire di no tu puoi anche rifiutare l'andiamo a salutare però finisce così e infatti qua abbiamo il 5 di coppe diciamo ecco fare quelle cose rispetto alla possibilità di non avere poi rimpianti o pentimenti diciamo investito troppo ho dato troppo ho fatto troppo e neanche pentirsi di non avere fatto proprio un bel niente perché vedi non è il punto too much o l'aridità totale ok il giusto è trovare una via di mezzo quindi questo cursore da qui a lì deve viaggiare più o meno nelle zone centrali per entrambi questo è quello che in qualche modo prima di tutto lo devi comprendere tu ecco che le carte ti davano questo incoraggiamento perché probabilmente anche tu questa cosa come dire ecco forse non l'avevi considerata che era quello questo qui il problema ok quindi se quando avete provato a stare assieme vi siete catapultati l'uno nella vita dell'altro solamente uno nella vita dell'altro dovendo fare quasi diciamo ecco la mogliettina con 25 anni di matrimonio alle spalle capisci bene che non c'è quel livello di confidenza rispetto ai dubbi che avete di addirittura chissà se riusciremo ad andare avanti provateci piano piano provateci piano piano di questo si tratta vediamo un po' questa persona vediamo con delle carte di energia vediamo cosa dicono anzi no prendiamo queste carte qui ok cosa dicono di lui queste carte che tu oggi devi sapere ovviamente ok voyage si è come se allora questa persona come dire in qualche modo ti osserva da lontano e sarebbe pronta a venire come dire da te ma anche se vogliamo con leggerezza attenzione che questa leggerezza non diventi un eccesso di leggerezza perché altrimenti ci si allontana anche rispetto alla meta no il pallone la mongolfiera va bene se si sposta in orizzontale perché se poi si sposta solamente in verticale dove deve arrivare sulla luna anche non è possibile giusto ok qua abbiamo una persona che per certi aspetti ma l'avevamo anche visto si sente tradita da te è come se considerasse il fatto che magari ti ha fatto entrare nella sua vita o tu l'hai fatto entrare nella sua vita comunque non vi siete capiti o forse vi siete giudicati in qualche modo è come se si sentisse che tu l'hai pugnata alle spalle si sente così non è detto che tu lo abbia fatto e poi qui abbiamo la carta della della protezione dello scudo diciamo che è una persona che per il momento rispetto a queste alle possibilità di prendersi un'altra un'altra pugnalata alle spalle sta cercando di proteggersi sta cercando di come dire compararsi un eventuale colpo è come se le carte dicessero c'è la possibilità anche come dire che nella ripresa dei contatti in qualche modo vi possiate ulteriormente ferire e andare ad avvalorare anche perché devi capire una cosa che se una persona pensa che a modo suo per la testa sua che tu hai tradito il rapporto hai tradito delle aspettative hai tradito la sua fiducia eccetera eccetera ma secondo lui non è detto che è così cosa farà questa persona nel momento in cui vi sentirete la prima cosa che vuole fare è confermare che è esattamente così per avere ragione questo è proprio matematica cioè non è che lo dicono le carte non è che tiro giù le carte è proprio matematica che è la prima cosa che la persona vuole capire no? dice aspetta vediamo se mi sono sbagliato quindi farà un qualcosa un atteggiamento oppositivo provocatorio per fare in maniera tale per capire tu con quale intento stai stavolta ok? quindi bisogna come dire ecco prima di tutto anche fare conti rispetto a delle vibrazioni basse no? prima di tutto diciamo ecco la gelosia che è venuta durante il periodo in cui siete stati come dire ecco separati a sé probabilmente questa persona pensa che tu abbia avuto rapporti con altre persone probabilmente pensa questa cosa quindi anche questo volta faccia questo tradimento alle spalle ok? è perché appunto diciamo ecco probabilmente lui ha una ferita di tradimento non è detto che tu l'abbia tradito lo sai tu no? però è un boomerang cos'è il boomerang? è una cosa che questa persona quando entra in una relazione pensa come dire ecco che debba necessariamente accadere come è vero che tu lanci il boomerang e torna indietro quindi se questa persona ha una ferita di tradimento automaticamente pensa che tutti lo tradiranno ovviamente pensa che l'abbia tradito anche tu ora io non è che sto parlando di un tradimento vedi infatti qua ci sono le proiezioni è come se questa persona non riesce a fare la tara ci mette nel conto tutte le sue paure e tutte le sue proiezioni le mette tutte su di te e sono le cose sue e le però le appiccica a te quindi come se tu le avessi fatte avendo paura che tu anche se non le hai fatte perché non è che pensa no ma in effetti non le hai fatte è la paura che tu le possa fare il deterrente no? ok in ogni caso qua c'è la possibilità diciamo che possa nascere qualcosa di bello e di buono ma anche di valore a dire la verità allora il punto è uno tu devi capire se a te questa persona interessa per davvero se tu vuoi avere una possibilità qui le carte stanno dicendo che sta a te dopo che hai capito queste cose fare una mossa come dire con nella sua direzione però questa mossa nella sua direzione non è tanto affinché tu possa chiarire o possa tornare insieme a lui la mossa è più che altro è collegata al fatto che intanto tu hai capito queste cose le hai interiorizzate le hai processate nella misura in cui poi deciderai di fare quello che vorrai se chiamarlo andarci sotto casa mandarti una lettera nemmeno quello che vuoi no devi sapere che è questo qui il punto devi sapere che tu devi come dire hai a che fare con questo con questa roba qui quindi o hai ben chiaro come devi processare poi all'altro pratico tutta questa faccenda esattamente così per come te l'ho spiegata o non fare nessun passo finché tutto questo non ti è chiaro perché non si può andare dall'altra persona e andargli a dire sai tu proietti tu fai tu dici no tu sai queste cose adesso che sai queste cose devi prendere avendo preso atto di tutto questo ti devi procurare tu le skills per avere a che fare con una persona che proietta determinate cose in te le sue paure ora non è che lui come dire co è il mostro di Loch Ness giusto fai conto che anche tu sicuramente avrai proiettato le tue paure in certi casi o in lui o in altre persone nella tua vita no quindi quella paura di essere traditi di dare la fiducia e poi di vedersi come dire in qualche modo anche passami il termine non veramente voluti bene non considerati la propria emotività non viene presa seriamente in considerazione ok è qualcosa che magari tu hai fatto tanto io dico per ipotesi queste carte non l'hanno raccontato però questa persona quello che gli è mancato è come dire ecco l'empatia l'empatia reale non l'empatia servile ok perché magari tu di cose potresti anche averne fatte tante per lui no che so farlo stare a casa tua dieci giorni e a gratis per stargli nella macchina farlo lavorare quello che vuoi no non è quello il punto non è quello il punto magari queste cose ok le hai fatte a buon rendere forse non è stato neanche grato a questa persona ma qual è il problema queste cose a questa persona potevano avvenire da te o anche da altre persone questo era quello che gli potevi dare tu questo genere di sicurezza ma questa persona aveva bisogno di altre sicurezze dal punto di vista diciamo ecco emozionale l'empatia cioè una persona che si sente capita vista e riconosciuta è proprio lì che non vi siete né visti né capiti né riconosciuti salvo poi anziché discutere di questo magari litigare per diciamo ecco il compito di ragioneria io ho queste partite di dare tu dovevi fare la partita doppia dare devono essere a pari ok vero una mano da una mano prende però in questa situazione specifica c'è di mezzo ben 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 altro quindi ora direi prendete solamente ciò che vi risuona perché lungi da me andarvi a consigliare perché magari poi a volte arrivano arrivo a leggere commenti dove ci sono persone che hanno anche subito che ti posso dire per esempio non dico maltrattamenti però ci sono state persone che si sono approfittate di loro loro hanno questa consapevolezza ma si butterebbero sotto un treno pur di tornare con quella persona quindi capite bene che non vale per tutti se proprio voi sapete che quella persona si è comportata male non vi è venuto a cercare perché questo si capisce anche le carte ti dicono che il passo lo devi fare tu un attimino bisogna capire se veramente questa lettura può riguardare il tuo caso allora lì il mio consiglio più che altro è vai a fare un consulto personale con me o con chi vuoi tu per capire se ha senso che tu veramente faccia un passo se puoi ottenere qualcosa eventualmente che cosa puoi ottenere perché qui sicuramente c'è la possibilità non solo di sanare il rapporto ma prima di tutto di capirvi cioè di essere come dire non più la proiezione delle proprie paure ma la sicurezza l'uno dell'altro però bisogna vedere se riguarda ognuno di voi che vi riconoscete in questa stesa o che la prendete come vostra va bene io vi ringrazio per essere stati con me fatemi sapere come vi risuona io vi saluto vi abbraccio vi bacio vi do appuntamento per un prossimo video e a chi non dispiace ovviamente lasciatemi un like ci vediamo presto ciao